Ciao, io sono Luca e ho visto, mi era piaciuto molto perché anche delle belle fotine hai in giù, ma per carità, nessuno è fessa, cioè la puntata in cui parli del conflitto, io non parlo più con mia madre, a volte mi dimentico di chiamarla e quindi si è creato questo conflitto, ad esempio se io faccio un rapporto tra me e te, però era interessante come lo risolvevi, cioè tu, oh che bella ragazza, tu dici oh che è il bel ragazzo, non come fatto te perché si uccidevano, quello che fatto te però, uomo e donna si sposa, che ne dici? Ciao!